ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo video di voi oggi voglio iniziare il calendario dell'avvento del 2023 con il primo giorno e vorrei subito partire con la piccola luna gialla di lorenza farina e lucia riccioli pubblicato da paolina incominciamo a leggerlo la piccola luna gialla le ombre della notte si nascondono in ogni angolo della stanza tomaso non dorme perché ha paura del buio il buio è così brutto che fa scappare perfino il sonno tomaso per farsi coraggio prende un foglio di carta e disegna una luna gialla la luna gialla nel foglio bianco la guarda e gli sorride poi gli cantona ninna nanna e lui a poco a poco si addormenta questo qui era il primo libro del primo giorno del calendario dell'avvento restate sintonizzati domani perché arriva il secondo episodio ciao